Questa sera per voi lo staff Parma Danza ve lo propone in tutta la sorvedenza ed eleganza pienese. I maestri Davide e la maestra Maria, Matteo e Lucia, Mauro e Nicoletta, il maestro Fabrizio e la maestra Danila, il maestro Mauro e Elisa, il maestro Paolo e Patricia, Vito e la maestra Elisa, Massimo e Mila. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.